ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi sono per recensire le lol insieme a una persona marco cherry che sarebbe mio marito, lui ha un canale youtube dove fa gameplay e il nome del suo canale è? marco cherry che l'ho già detto prima vabbè presentati anche te si appunto mi presento subito così chiudiamo subito il cherry che poi partiamo con quelle robe lì a me non piacciono queste cose ovviamente vabbè comunque niente io faccio gameplay però non faccio gameplay di giochi di ps4 e anche spiego come installare un po qualsiasi gioco sul computer visto che ho questa passione mi piace come lei ha questa di queste robe quale io le chiamo così io le chiamo così va bene allora oggi sono quasi la donna oggi andiamo appunto a recensire le nuovissime lol surprise le blind ball che ormai ho visto praticamente in quasi tutti i video e niente vi lascio il canale sotto in descrizione il suo canale youtube così se volete andare a dare un'occhiata vero? certo certo allora appunto abbiamo due blind ball allora oggi recensiremo una blind ball e la prossima nel prossimo video farò vedere l'altra allora appunto le lol surprise e sono importate dalla giochi preziosi costano 14 euro e 90 e mi sono state omaggiate dal mio maritino che mi ha fatto appunto il regalo oltre ad altri regalini che poi comunque vi farò vedere sempre nei prossimi video perché a breve il mio compleanno quindi come tutti nei video precedenti ovviamente lei non l'ha specificato ma praticamente tutto io praticamente diciamo così però vabbè insomma alla fine a lei piacciono quindi mi sembra mi sembra giusto contentarla allora appunto vi dicevo che sono importate dalla giochi preziosi sono 45 ma io penso che al momento mi fermerò qua giusto perché sennò dovremmo aprire un punto per comprarle tutte allora praticamente ci sono sette strati dove al primo strato possiamo trovare un indizio al secondo strato degli sticker terzo strato biberon quarto scarpe cinque vestito sei un accessorio e al settimo c'è la nostra bambolina c'è un marito che piange alessandro è nostro figlio ovviamente allora iniziamo appunto con aprire perché io non ce la faccio più allora qui c'è una cerniera non ce la fai più allora vai scusa non ce la faccio più a restare con il dubbio allora qui appunto è la serie 1 non vi ho fatto vedere che è stata importata la serie 1 qui c'è una cerniera appunto dove ci fa capire ci fa capire di aprire la bolle e niente apriamo allora qui cosa c'è una coccarda cos'è quello fantasmino di pacman è un fantasmino qui sotto nei commenti scrivete quale secondo voi quale dolci potrebbe potrebbe essere andiamo avanti qui guardate che bello il packaging stupendo sì perché non sappiamo qual è ok e qui appunto ci sono gli sticker dove praticamente c'è quella che cambia colore che spruzza acqua che piange o che fa la pipì e noi appunto adesso vedremo qual è la nostra qui ci sono vari biberon appunto adesso andremo a trovare un biberon o una borraccia di nuovo la cerniera cos'è un giubbotto no ma non è un giubbotto allora vediamo cosa abbiamo trovato dovrebbe essere un biberon o una borraccia ciao io spero di trovare la rocker perché è la mia preferita vediamo già che puoi andare a prendere un paio di forbici ecco qua dunque vai a prendere lo stesso ecco qui il nostro biberon qui c'è scritto baby guarda che carino appunto è squiscioso in modo tale che poi noi inseriremo l'acqua dentro da dare alla doll e vedremo se appunto piange cambia colore oppure fa la pipì o spruzza l'acqua dalla bocca speriamo che mi ha preso quella giusta perché a me sai quale mi piace questione di culo ecco qui appunto l'altra cerniera qui dovremmo trovare le scarpe fanno tanta plastica queste doll allora cosa c'è qui? bene un paio di forbici vediamo un po' oh mamma ma cos'è? non sono scarpe? mmm non saprei io fino adesso questo accessorio non l'ho mai visto da altri youtuber mmm vediamo qua dovremmo trovare il vestito insomma non ci sono scarpe ma non ci sono scarpe si sembrano ma sembrano? ma sembrano? tipo se tu giri giro al contrario giro 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 ah qui sembra un tipo come quello che ho fatto agli stampini si ci ho fatto anche il creazione di resina qui apriamo e dovremmo appunto trovare il vestitino io scarpini al momento non ne ho trovati non l'avrebbe scalza se no no è una cosa strana perché fino adesso non ne ho mai ma che male che va a prendere la febbre tanto oh ho trovato no non ci posso credere ho trovato la sirena quella che voleva nese time e l'ho trovata io sicuramente questo appunto è il vestitino che carino ok questo si suicida ok perfetto adesso andiamo ad aprire ma sicuramente sarà la sirena allora andiamo a vedere intanto la checklist questa me la invidierà sicuramente in esitario ragazze perché la voleva dare infatti eccola qui allora questa qui appunto è la checklist possiamo trovare le glitter le split club le athletic club le opposite clubs club gli club appunto questa qui è la mia preferita dance club le theater club appunto io penso di aver trovato lei e glam club allora a me piacciono tutte ma in particolar modo sia la rocker che la queen bee che sono bellissime anche questa qui è carina adesso qui dietro vi faccio vedere i poster aspettate eh ecco qui mantieni mantieni così metto a fuoco perché è andato via il fuoco ok eccoli qua che carine che carine sono troppo belline allora sono troppo belline mi piacciono da morire insieme ma perché sei viva scusa perché sei viva mi piacciono da morire e sei ancora qua penso no non ci fate canti diciamo al telefono e digli signore me venga ciappai insieme a lol spiegalo che te sei di Milana se no non capisco vabbè comunque questo è il dialetto milanese vabbè parlerò italiano così non lo capisce nooo bellissima e stupenda mi piace tantissimo ma dai ma la bocca com'è che è la bocca ma dai sì perché ovviamente va messo questo ah ecco così ti do un filo in bocca allora vediamo mettiamogli il vestitino mamma che carina che è ok che carina ah adoro troppo bellina qui c'è anche il set che sembra un set da sushi sinceramente ma penso proprio che sia quello tanto l'ha messa a fuoco ma a farsi fottere ok eccola qua vorrei sapere come fa mangiare che carina è adorabile mamma mia che adorabile che è mamma mia qui ovviamente non rimane chiuso uè ma adesso è proprio funziona ok non rimane chiuso l'accessorio che adesso andiamo a vedere qui c'è questo gancio appunto perché possiamo trasformare la palla in una borsetta in uno stand cosa che farò io e in più in un set da gioco questo appunto è il tavolino e qui va inserita la donna non ci fate caso a queste battitine così andiamo ad aprire l'accessorio oh che bella questa cos'è che vediamo qui nella checklist ah ok ok questa va qui ok ragazzi ce la posso fare vediamo come l'ho messa no sto mettendo giusto allora così ah ok va inserita qui si vede metti a fuoco grazie ok qui appunto io ovviamente sono impedita credo vado messo qua anche se al momento non riesco non fai battutine di questo genere no io non riesco a inserire questo non capisco perchè allora questa in teoria dovrebbe essere utilita così così io non capisco perchè non riesco a metterla va bene ragazze comunque avete capito non riesco adesso ad inserirla allora appunto vi dicevo che questa bolla può essere anche usata come piedistalla e io non capisco perchè non si mantiene perchè impedita un po' difficilina da far tenere non ti entri non vuole stare vabbè comunque ragazzi questo sarebbe in questa maniera così poi appunto vediamo se si legge da sola no no va bene questo appunto vi dicevo che può essere anche trasformato in un set da gioco oppure in una borsetta dove poi potete inserire tutto dentro mettere questo qui e appunto diventa così praticamente una borsetta oggi non me ne va la giusta però va bene allora adesso mentre tu vai a prendere un bicchiere d'acqua ecco io direi appunto terminiamo col video perchè lei ha già pensato che per questo tempo sono appeso a una cifra dopo ci vuole 10 ore a caricarlo si ma dovrei far vedere cosa fa la doll comunque facciamo la seconda parte comunque adesso vi faccio vedere qua soltanto appunto quello che vi dicevo prima di inserire l'acqua nella borraccia darle da bere vedere se piange se sputa acqua se fa la pipì addosso oppure se cambia colore ecco qua noi vi rimandiamo al prossimo video dove appunto vi farò vedere cosa farà la mia doll e nel prossimo video apriremo un'altra ball ciao a tutti lasciate un commentino mettete mi piace iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e io vi rimando al prossimo video sia al suo che al mio e al prossimo video ciao 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 ciao